benvenuti a tutti è una giornata sicuramente importantissima per quanto riguarda l'introduzione di concetti che a mio avviso mancano nella formazione di base quando si soprattutto a livello universitario la nostra nostra missione da sempre da oltre vent'anni è quella proprio di divulgare quel gap che mancante tra la ricerca che comunque viene fatta a punto di vista universitario è questa grande possibilità poi che abbiamo di venire a conoscenza per un certo verso di nuovo di un nuovo paradigma per la medicina vi chiedo di silenziare i microfoni perché alcuni ce l'hanno ancora aperto quindi mi fate un grande favore grazie questo è un corso teorico pratico quindi questo approccio multidisciplinare nell'era della medicina quantistica ma anche soprattutto nell'era dell'epigenetica per piacere tacità chiudete i microfoni se no mi tocca poi dopo devo togliere la possibilità a tutti di parlare e di fare domande quindi dico che dico sempre che esistono momenti storici in cui tutto quello che valeva prima non vale più e questo è uno di quei momenti storici e lo stiamo vivendo lo stiamo anche pagando un caro prezzo su questo cambiamento epoche nuove corrispondono modelli nuovi nuove persone nuovi professionisti nuove modalità e anche nuovi atteggiamenti e sicuramente siamo nel mondo della globalizzazione dove spesso ce ne dimentichiamo e non ne teniamo conto con un clic siamo dall'altra parte del mondo dovrebbe probabilmente essere indirizzato anche una migliore utilizzo di questa tecnologia di questa possibilità di comunicare siamo anche nei tempi dei social network ormai condizionati da vedere sempre più persone che che dicono la loro si dice il dottor google di tutto e di più e anche scontro tra tutto e il contrario di tutto uscire però dalla propria area di comfort per scelta è meglio che doverlo fare perché siamo costretti pensate nel mondo nella nostra professione quanto sia importante quindi anticipare i tempi soprattutto quando si parla di salute quando si parla di prevenzione e questa ormai la conosciamo tutti non è la più forte delle specie che sopravvive nemmeno la più intelligente ma quella che risponde meglio al cambiamento e penso che siamo in un periodo di grande cambiamento e il mondo non sarà più quello come prima e allora spesso dico quelli che dicono non si può fare dovrebbero togliersi dalla strada di chi lo sta già facendo perché probabilmente c'è qualcuno che anticipando i tempi con una mentalità e un atteggiamento diverso verso la vita riesce a cambiare le cose è chiaro che non è facile come possiamo farlo questo è chiaro soprattutto se abbiamo una mente aperta perché la nostra mente è come un paracadute e funziona solo se la teniamo accesa grazie alla tecnologia per fortuna tecnologia che esiste possiamo comunicare possiamo interagire nello stesso tempo abbiamo anche il rovescio della medaglia e oggi vedremo perché con le relazioni che seguiranno il mio compito è quello di introdurre questa giornata unendo un po' i puntini siamo partiti dalla scuola di alta formazione medicina funzionale che comunque per chi è interessato può accedere perché anche chi ha perso le due due weekend sono sette weekend possono recuperarli perché tutto registrato 50 crediti cm e siamo partiti di lì per poi fare dei dei corsi specifici su varie tematiche e proprio il 6 dicembre avremo un corso di aggiornamento medico scientifico proprio sul sistema immunitario infiammazione questo approccio multidisciplinare con relatori come sapete importanti come da da mauro miceli massimo spattini il gianfranco pisano insomma avremo proprio professionisti che ci ci introdurranno a questo approccio per migliorare il nostro sistema immunitario e controllare l'infiammazione questa alla fine è una fotografia meravigliosa un'immagine meravigliosa di quello che poi noi siamo veramente e spesso ce ne dimentichiamo ognuno ha la sua verità se guardate questo cilindro qualcuno vede un cerchio altri vendono rettangoli ma io penso che noi la visione è importante ognuno ha delle 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 grandi capacità delle grandi possibilità se se si permette di interagire di condividere di unire le forze con gli altri quindi benvenga la differenza l'importante che questo venga venga fatto per migliorare soprattutto la qualità della vita delle persone e cosa c'è di più importante che informare e prevenire io parto sempre da un problema che abbiamo un problema a livello probabilmente di disfunzione mitocondriale abbiamo un problema di infiammazione silente quando poi abbiamo poi una malattia e allora iniziamo dalle cellule sappiamo quanto sia fondamentale intervenire sulla carenza di ossigeno prima che questo crei questa infiammazione silente sappiamo quanto sia importante intervenire sulla sulle disfunzioni mitocondriale la disfunzione endoteliale il microcircolo sappiamo anche che però viviamo in un mondo che non è più come 100 200 300 anni fa c'è poco da fare l'area che respiriamo provate a cambiarla il cibo che mangiamo ogni giorno esce una dieta ma soprattutto sempre più contaminato le carenze nutrizionali e sono un dato di fatto come l'acqua che è contaminata poco movimento soprattutto adesso che ci hanno confinati agli arresti domiciliari l'ambiente in cui viviamo sempre me un problema gravissimo pensate 200 siti da bonificare in italia conosciuti come terre dei fuochi 96 mila siti da bonificare di amianto 6.000 morti solo per amianto in italia vogliamo parlare poi delle città più inquinate al moe in europa e sapete brescia bergamo milano torino insomma sono ai primi posti e poi quella quella interferenza dei campi elettromagnetici radiazioni spesso sconosciute come radon la luce il sole la luna che non se ne tiene più conto e poi l'apnei i nostri pensieri beh tutto questo viene racchiuso in quella grande nuova branca della medicina che è l'epigenetica è il software della nostra vita condiziona sicuramente la salute delle nostre cellule dobbiamo tenere presente che comunque le cellule possono avere un problema già congenito di disfunzione mitocondriale e questo viene poco preso in considerazione pensate in questo caso alcuni definiscono questa situazione stangiopatia congenita acidosi enzimo metabolica quindi un problema a livello cellulare quindi questa infiammazione silente che poi dove l'epigenetica crea il grilletto che poi fa scattare la malattia allora trovare un giusto equilibrio e nutrizionale è fondamentale sì nello stesso tempo uniamo i puntini lo vedremo poi le relazioni che seguiranno dei grandi esperti come guido paoli e professor spaggiari dottore guido paoli e professor spaggiari quanto sia importante anche guardare il mondo da un altro punto di vista attraverso la vibrazione la risonanza la comunicazione cellulare come comunicano queste cellule corpo umano è molto più di un semplice gruppo di muscoli osse e organi che lavorano insieme corpo umano è controllato da frequenze armoniche interazione responsabile dello scambio di informazioni energia e materia attraverso un processo denominato vita sostenuto da un stato di benessere e benestere definito come epigenetica quindi segnali che il corpo riceve i segnali che il corpo fa uscire dal a livello cellulare attraverso l'energia che produce attraverso le emozioni attraverso i pensieri attraverso le nostre azioni il nostro comportamento quindi dobbiamo tenere a conto tutto perché se continuiamo a guardare il mondo dal buco della serratura senza aprire le porte beh non non fa non abbiamo una visione corretta di quello che sta accadendo quindi proprio poi dobbiamo lavorare proprio sul metabolismo che ha ripercussioni sull'epigenetica in quanto la capacità del corpo di rispondere ai segnali micro macro ambientale ecco la comunicazione è un sistema di segnalazione generato nel campo dell'epigenetica e consente lo scambio tra energia e materia viceversa grazie ai biofrutoni ecco quanto è importante magari avere una situazione di quelli che sono chiara di quelli che sono i fattori che possono interferire con la salute delle persone pensate il sistema antiossidante le sfide ambientali gli indicatori di resistenza il sistema gastrointestinale gli acidi grassi essenziali gli aminoacidi e le carenze di vitamine minerali le interferenze e chiedo sempre quanti esami bisognerebbe fare per avere chiara questa situazione ecco che noi possiamo veramente entrare in questa giornata parlando proprio di salute a livello cellulare cosa mangiamo cosa respiriamo noi mangiamo per produrre idrogeno respiriamo per apportare ossigeno le nostre cellule siete d'accordo con me ma cosa mangiamo cosa respiriamo in che ambiente lo facciamo e ma soprattutto quanto ossigeno arriva alle nostre cellule quindi la carenza di ossigeno a livello cellulare provoca ipossia e ci sono varie forme di ipossia che provano con poi un acidosi pensate l'infiammazione silente di cui parlavo prima infiammazione silente stress ossidativo e quindi infiammazione cronica e poi tutto il resto dove ancora l'ossigeno è considerato la cenerentola di nutrizionisti medici e comunque operatori del settore non ci pensa nessuno l'ossigeno però vediamo quanto importante in questo momento se ti manca l'aria ossigenazione al 90 per cento 85 per cento le persone sono intubate oppure hanno grossissimi problemi di qualsiasi tipo della qualità della vita pensate che noi possiamo consigliare le persone uno stile di vita migliore ma non possiamo fargli cambiare lavoro casa città ambiente come facciamo non è così facile il problema è proprio questo certo attraverso l'alimentazione noi cambiamo il dna l'epigenetica studia come perché non è possibile riprogrammare le cellule anche attraverso l'alimentazione che è fondamentale però l'ambiente purtroppo condiziona l'esposoma quindi il nostro la nostra rischio il rischio ambientale che condiziona quotidianamente le nostre vite poi scatena problemi alle future generazioni e poi il ritmo sonno veglia mai sappiamo quanto sia importante ma ce ne stiamo dimenticando quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento beh pensate che sia un grosso problema da risolvere io faccio sempre queste domande e le ho volute scrivere oggi cosa facciamo noi ogni giorno per risolvere questo problema e se ci fosse una soluzione dobbiamo intervenire per risolvere il problema per prevenirlo dobbiamo pensarci quante persone pensate siano interessanti a risolvere questi problemi queste sono domande che io pongo sempre che mi pongo e che ho voluto scrivere perché spesso no ce ne ce ne dimentichiamo di di cosa fare per prevenire veramente pensate che gli ultimi dati del ministero dicono che dieci quattro su dieci vogliono infarto e ictus le malattie sono in aumento neurodesinative la teroscorosi metaboliche tumori come ci insegna anche professor burgio soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni stanno aumentando i tumori a livello cerebrale le leucemie perché questo cosa accade cosa sta succedendo la l'aspettativa di vita ma io chiamo la qualità della vita la rimettilazione del dna ci dimentichiamo di quanto siano importanti i fattori donatori di gruppi metili che controllano l'omocisteina le vitamine del gruppo b i folati la vitamina b12 l'essidosi metionina le carenze nutrizionali e dobbiamo conoscerle non possiamo guardare solo i soliti parametri dobbiamo guardare la situazione a 360 gradi e poi la biodisponibilità di questi nutrienti è importantissimo quali sono i cibi che li contengono veramente oppure se integriamo quali sono quegli integratori che rendono biodisponibile assimilabile quelle sostanze la via di somministrazione la capacità antiossidante e questo tutto ci serve per rafforzare il nostro sistema immunitario perché ormai sappiamo che è sottoposto a una sfida costante contro proprio questi agenti questi interferenti endocrini pensate interferenti endocrini quindi alzare il nostro sistema immunitario perché le patologie iniziano a livello cellulare allora siamo 100 mila miliardi di cellule e noi dobbiamo agire a livello cellulare a livello mitocondriale dobbiamo proteggere le nostre cellule dobbiamo proteggere le future generazioni lavorando sulla salute dei padri delle madri prima del concepimento dobbiamo lavorare sul tutelare il dono della vita e penso che sia importante anche sapere i dati perché ormai di statistiche ne abbiamo no ormai siamo pieni ma guardate 500 mila morti premature in europa l'italia al primo posto vuol dire che questi bambini non li abbiamo fatti neanche neanche nascere e questo è un grosso problema cosa possiamo fare beh innanzitutto inizio di unire il puzzle cercare di mettere insieme le forze le nostre conoscenze invece che dividere che c'ho ragione io perché ah no non mi parlare di quantistica ah no non mi parlare di biofisica no non mi parlare di integratori ah no ma sì le diete no dobbiamo unire le forze dobbiamo iniziare a aprire la nostra mente ecco l'epigenetica una vera e propria rivoluzione che riprogramma le nostre cellule il software della vita tutti i segnali che interagiscono la nostra vita ci permettono di comunicare dentro di noi e fuori di noi e lo sappiamo già in 2001 il times con attenzione tutte le scelte che fanno i tuoi genitori posso condizionare la salute dei tuoi figli delle future generazioni e tutto quello che fa in gravidanza dice vuoi un bambino non puoi fumare non puoi bere non ti puoi alcolizzare è un problema è un problema che sociale culturale sicuramente e purtroppo qualcosa si sta sfungendo di mano guardate l'air ce lo dice nella comparsa i tumori conta anche l'epigenetica ma non è solo per i tumori e per le malattie cardiovascolari il diabete la stanchezza cronica no la neurodegenerazione non dobbiamo aspettare di avere un tumore per capire che l'epigenetica condiziona solo quella parte siamo abituati solo a guardare un aspetto allora la visione a 360 gradi perché le malattie sono trasmissibili guardate lo studio ormai stanno dimostrando fino alla terza generazione 4 40 generazione ecco perché ho voluto fare questo corso proprio per mettere a disposizione queste informazioni per il controllare l'infiammazione per intervenire prima che ci siano cardiopatie tumori alzheimer dobbiamo lavorare sulla salute dei nostri dei genitori sono prodotte di padri delle madri prima del concepimento tutelare la vita perché se prevenire è meglio che curare guardate questo è un libro scritto dal dottore Ernesto burgio vedete l'ambiente condiziona le future generazioni quindi tutto il ciclo della vita e noi cosa stiamo facendo per evitare questo distruttori endocrini già le malattie si programmano a livello fetale nella pancia della madre e distruttori endocrini metalli pesanti particolato l'ultrafine allora se prevenire è meglio che curare 470.000 morti l'anno per inquinamento compriamo pubblicità e viviamo in un mondo ormai malsano dove il documento del senato della repubblica ce lo dice chiaramente guarda l'effetto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori delle malformazioni feto neonatali ed epigenetica dove si parla chiaro che questo condiziona la nostra vita 371.000 casi tumori cosa può provocare un tumore esposizione sostanze tossiche stile di vita alterazioni genetiche infezioni ma questo lo fa già nella pancia della mamma nella salute dei padri e delle madri prima del concepimento e poi chiaro pensate dopo cosa può accadere su già un individuo con problemi guardate queste conosciamo ormai ma si compriamo cosa di le cose di bassa qualità per te vi ricordate i mobili alla formaldeide la pittura alla formaldeide quanta benzene abbiamo respirato piombo formaldeide allumino cromo e poi tutto il fumo passivo che era permesso a respirare dagli aerei ai cinema alle case la gente fumava in casa fuma ancora in macchina quindi pensate che livello siamo cos'è questo ma mancanza di informazione ignoranza la ipocrisia ma ditelo voi non lo so 140.000 sostanze chimiche esposizione planetaria guardate cosa sta accadendo e poi il glisofatto lo sapete qui siamo veramente a un altro livello di con il glifosato siamo un altro livello veramente assurdo è vietato ormai lo sappiamo in molti paesi qui forse nel 2000 e chissà quando questo altro problema da risolvere perché queste cose poi ce le ritroviamo nei vini ce le ritroviamo nella frutta nella verdura e ormai in tutta la catena alimentare questa è la fotografia della nostra realtà e poi la ciliegina sulla torta dico no questo è veleno sulla torta questo è spesso non solo un condizionamento a livello dopaminergico della dipendenza da cellulare che ormai abbiamo acquisito tutti il problema è quando lo acquisiscono i ragazzi e quando i ragazzi e i bambini vanno a dormire a pochi mesi di vita un anno due anni con il cellulare con la musichetta con la fiaba oppure diventano i babysitter per i bambini guardate cosa fanno i loro cervelli pensate al wifi che oggi ha una frequenza vicina al 5g come sapete inutile dire stop al 5g però ce l'avete anche nel wifi quindi attenzione ne sentiremo parlare oggi da 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 gelli quanto questo sta condizionando le nostre vite ecco che il wifi è veramente un grossissimo problema da risolvere perché viviamo in quella condizione viviamo e dormiamo nell'altra guardate allora cellulare spento prima andare a dormire wifi spento mettete il cellulare fuori dalla stanza proteggiamo se abbiamo poi lo vedremo con la nuova smart card ma i dispositivi anche di di massimo fulgini che stanno funzionando bene sta facendo un lavoro scientifico importante con il libratum è veramente interessante e quindi tutti i tossici che poi si legano a livello degli stoni bloccano lo srotolamento del dna e come sapete scatenano poi fanno scatenare la malattia ecco l'epigenetica e allora guardate noi dobbiamo fare prevenzione guardate quanti esami dovremmo fare per capire veramente come come poter intervenire e si funziona il mitocondriale nucleare microcircoli danno a glico calice danno in membrana in endotelio le carenze vitamine tutte queste cose che conoscete che magari fate normalmente il sistema antiossidante glutatione la su prossimo dismutasi l'eccesso i radicali liberi le disfunzioni monale la cascata ormonale quanti esami dovremmo fare e li dobbiamo fare per capire e beh insomma non possiamo no limitarci vediamo la carenza vitamina d ma non c'è solo quella c'è un mondo oggi per capire cosa stia interferendo sulla salute del paziente cosa stiamo facendo quali cause con cause ci sono quale strumenti abbiamo a disposizione per valutare questo quanti sistemi conoscete che sono in grado di dare un'informazione così completa allora se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto rischiamo di restare dove siamo quindi avremo gli stessi risultati allora come diceva il grande grandissimo Einstein diceva bisogna diventare saggi penso che tutti noi possiamo diventare saggi proprio evitando il problema conoscendola con una medicina personalizzata predittiva preventiva partecipativa dove sicuramente conoscere i fattori che interferiscono con la salute a scopo predittivo e preventivo è una cosa importante per migliorare l'anammesi poi dopo la diagnosi la fa il medico però il nutrizionista però dobbiamo assolutamente interagire in modo con una visione a 360 gradi perché ormai si sta vivendo al di sotto del nostro benessere e questo sappiamo quanto l'impatto ambientale emotivo e nutrizione svolge un ruolo essenziale quindi bisogna ottimizzare modificare non solo la dieta la nutrizione lo stile di vita produrre un'esposizione genica ottimale ma anche l'ambiente dove si vive e come faccio a saperlo che ho interferenze da wifi da cellulare da radiazioni da radon da sostanze chimiche da additivi alimentari da idrocarburi ecco che la biosia quantistica probabilmente può essere un ottimo supporto per vedere quello che non riesco a vedere normalmente dove sappiamo benissimo il controllo esercitato a questo tipo di energia dominante rispetto alla composizione fisica con efficienza di cento volte maggiore rispetto a quelle agenti chimici l'espressione genica umana può essere influenzata sfruttando proprio questa energia che rappresenta la natura epigenomica quindi possiamo influire anche sull'ambiente dei soggetti per alterare l'impatto ai fattori fisici mentali emotivi ecco l'apnei la conoscete tutti quindi è chiaro che l'epigenetica è lo studio dell'espressione genica sotto l'influsso dei segnali informativi emessi dal micro del macroambiente dopo il fenotipo dove il fenotipo cambia il genotipo resta lo stesso per via della metilazione degli stoni quindi un gene può manifestarsi in centinaia di modi diversi in base al segnale ambientale che determinano l'espressione genica il silenziamento genica quindi segnali segnali non solo macroscopici ma microscopici sottili basta pensare alle frequenze basta pensare alle frequenze del nostro pensiero del ritmo alfa per esempio quindi sono frequenze e ci può sicuramente essere utile capire come mappare queste interferenze per esempio sapete che biomarker come il bulbo del capello il capello è fondamentale l'utilizzano per mappare le persone che usano sostanze fanno uso di sostanze stupefacenti sappiamo che questo è possibile utilizzarlo per capire se i lavoratori hanno un'interferenza da dei posti di lavoro da sostanze chimiche viene utilizzato per mappare persone che sono intossicate da metalli pesanti oggi la tecnologia si viene incontro per leggere questo bulbo del capello in maniera ancora più precisa preventiva e predittiva e non ponderale quando il bulbo è ancora vivo perché come vedete il bulbo è connesso al derma quindi al tessuto connettivo e quindi a tutte le informazioni è un archivio di tutte le informazioni la nasa lo utilizza pensate per valutare la salute degli astronauti viene utilizzato il bulbo per i disturbi psichiatrici e perché perché è connesso come vedete al è di origine ectodermica della pelle il tessuto connettivo al tessuto nervoso comprende il cervello midollo e nervi quindi queste sono strutture sensoriali che archiviano tutte le informazioni quindi se noi abbiamo la capacità di mapparli e di leggere tutte questi segnali noi possiamo costruire un'onda caratteristica della situazione di quella persona in quel momento e intervenire a scopo preventivo e preventivo lo mettiamo questo as drive lo mettiamo sul centro di questa bobina e questa bobina genera uno spettro poi lo vedremo con il professor spangiari genera uno spettro di frequenze che va in risonanza con le informazioni del bulbo e permette di ricavare delle informazioni molto precise è un sistema biofisico che interagisce con informazioni di onde sinusoidale quindi l'onda caratteristica di quella persona qui ci sono informazioni tecniche che se volete possiamo approfondire però la cosa interessante che riusciamo a mappare 800 marcatori marcatori chiave della situazione di quella persona 800 le frequenze le conoscete però frequenze sono importanti il nostro cervello funziona grazie agli impulsi e alle frequenze e abbiamo gli stati di veglia o rilassamento proprio grazie al cambiamento di queste frequenze quindi attenzione pensate alla vista pensate come funziona a volte dico mi spieghi la formula biochimica del di come funziona alla vista e basta fare questo questa domanda no non è così facile rispondere quindi ecco oggi è una vera e propria rivoluzione nuovo paradigma biofisico epigenetico e naturalmente senza cancellare nulla della medicina perché è una medicina integrata dove è importante salvare la vita le persone dove è importante curare le persone dove ci sono dei farmaci che sono indispensabili per la salute però dobbiamo unire le forze dobbiamo fare prevenzione e basta pensare alla risonanza di schumann vediamo in un condensatore dove la frequenza di schumann lo vedremo ne parlerà gelli fondamentale conoscere queste cose pensate che questa frequenza è così importante che gli astronauti hanno nella loro navicelle spaziali proprio per tutelare il cervello degli astronauti quindi quanto è importante questa frequenza nella riproducibilità dei sistemi quantici beh se noi cambiamo ogni secondo invecchiamo ogni secondo io non posso essere riproducibile rispetto a un secondo fa un attimo fa perché sto già invecchiando il tempo già passa ho già respirato consumato vitamine minerali enzimi quindi tutto cambia tutto si trasforma continuamente non siamo uguali a dieci anni fa no guardiamo le fotografie dici come mai sono cambiato stiamo invecchiamo non facciamo più magari una corsa che facevamo a vent'anni e come mai probabilmente perché no perché purtroppo sappiamo che si nasce però poi la cosa più sicura in assoluto è che prima o poi ce ne andremo da questo mondo quindi l'epigenetica informativa pura è riproducibile in nessuna circostanza quando si parla di biofisica sono informazioni importanti attraverso questa capacità che abbiamo di leggere le informazioni epigenetiche capire quali sono tutti i fattori che interferiscono sulla salute se interferiscono sulla salute della persona noi abbiamo anche poi delle delle informazioni sulla priorità per piacere silenziate il microfono sulle priorità sulla rilevanza quindi di intervento e poi da considerare quindi intervenire sulla carenze nutrizionali o sulla dieta una cosa interessante che possiamo fare con quindi è quello di avere poi vari report avete visto il report di prima era sulla sul sistema immunitario abbiamo un report su come ottimizzare in giovanile a rigenerare le cellule sull'azione anti aging un report poi vedremo con la relazione di andrea savini sulla sull'applicazione di questo nuova tecnologia nel campo dello sport e dalla performance e poi avere chiaro quali sono i nutrienti che possono interferire con la salute e quelli che possono invece essere utili per apportare nutrienti preziosi perché poi la dieta è fondamentale se scelta di qualità filiera corta eccetera eccetera e sfide ambientali sostanze chimiche tossine le radiazioni pensate dicevo prima il radon pochi sanno che radon è una delle cause dei tumori al polmone pensate vivere o lavorare negli scantinati pensate quante aziende no o negli ospedali hanno dei laboratori nei sotto ne ne sotto proprio nei fondi e bisogna stare molto attenti perché lì può esserci radon e avere chiaro quindi quali sono i batteri i funghi le muffe i virus quindi intervenire poi conoscere interferi indicatori di interferenza dei campi elettromagnetici avere un piano poi nutrizionale che naturalmente il nutrizionista il medico potrà dare al suo paziente e secondo poi le sue conoscenze e il suo alla sua professionalità però qui ha delle informazioni importante e poi dopo 90 giorni si ripete il test vedete nuove proteine nuove cellule perché rigeneriamo le cellule in maniera corretta la rilevanza ti dice quali sono i fattori chiave che meritano quindi di essere affrontati con la dieta lo stile di vita l'integrazione e soprattutto la conoscenza di quanto può essere poi possa interferire l'impatto ambientale quindi si genera proprio vedete le carenze di vitamine le carenze minerali carenza di aminoacidi il sistema antiossidante sistema gastrointestinale le interferenze campi elettromagnetici quindi penso che sia veramente uno strumento straordinario che possa essere veramente utile per migliorare l'anammesi che poi naturalmente quella la fa il professionista il benessere dipende da noi assolutamente dipende da noi e tutte queste informazioni che noi possiamo condividere con i nostri pazienti i clienti con tutte le persone in cui veniamo in contatto di quanto l'impatto ambientale di quante le carenze nutrizionali la disfunzione mitocondriale si ricoprono un ruolo fondamentale nella salute delle nostre persone però dipende da noi dalla nostra responsabilità dalla nostra azione perché ci saranno sempre dei sassi sul nostro cammino dipende da noi se farne dei muri o dei ponti quindi ecco veramente la opportunità che abbiamo oggi di aprire la mente verso nuove opportunità nuove sfide perché non è la statura che fa grande una persona neanche il suo conto in banca ma è quello che ha nel cuore il comitato scientifico e voglio in particolare menzionare il grande giuseppe genovese che ci ha lasciato come sapete due anni fa sulla sulla sinistra uno dei più grandi esperti di ipnei di medicina quantistica veramente aiutava i suoi pazienti in maniera straordinaria per quanto riguarda le sostanze chimiche sensibilità chimica multipla la fibromialgia insomma un grande poi i vari ricercatori e a destra è uno dei più grandi medici ancora viventi che è sergio stagnaro che ha 89 anni che ha creato la società di semiotica biofisica solo per medici e poi voglio ringraziare grande pia giorgio spaggiari che sentiremo tra poco per il supporto ma soprattutto per sporto scientifico grande fisico ma anche medico e quindi pensate quanto può essere utile e quanto ha fatto per tutti noi in tutti questi anni l'amore per la vita perché l'unico regalo che non riceveremo mai due volte è fondamentale capire di amare noi stessi amare la vita e amare gli altri e poi riappropriarci un po dei principi di gratitudine i principi universali i valori il rispetto la speranza ma soprattutto la comprensione e l'amore per un mondo migliore ricordiamoci che la vita è davvero semplice eppure insistiamo complicandola e finisco sempre con un messaggio che conoscete e la vita senza amore non ha senso grazie di cuore grazie veramente di cuore di di la vostra partecipazione sembrava giusto fare un'introduzione come questa per introdurre la giornata e sono veramente grato della vostra adesione e del nostro supporto grazie per avermi ascoltato oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia s drive che si basa su questi principi puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info at epinutracell.it